Buonasera a tutti! Ciao vecchia schifezza! Ciao, che oggi sono un po' triste! Perché non ci piace, vero? Perché? Sì, oggi era il giorno del matrimonio! È vero, c'era da celebrare il matrimonio! L'ho perdonato! Chissà, magari, magari, magari... Magari è scappato! Magari c'è? Magari c'è? È una sorpresa per te? Lo spero, perché io sono veramente tanto triste! Magari arriva, quando meno te l'aspetti, c'è piace! Eh, lo spero tanto! Tipo Maria De Filippi dalla busta! Ecco la sgargo! Ma, un altro matrimonio? Apriamo la busta, Jeric! Apriamola! Non c'è niente dietro, per ora! Ma tra un po' magari ci sarà il tuo bellissimo amoroso! Lo spero tanto! Dar buca al matrimonio è terribile, comunque, eh! Mamma mia!